È chiaro che i problemi ci sono, io non li ho mai nascosti, sono io che dico da tanto tempo che per esempio più che il costo della vita, il costo dell'abitare a Milano è alto, è anche a volte un prodotto negativo che è successo a una città. Quello che io non devo e non posso fare è rispondere a questa narrazione con un'altra narrazione, io devo semplicemente lavorare e cercare di far migliorare le cose, quindi non mi metterò certamente a replicare, il mio impegno c'è ancora più di prima.